salve buonasera buon pomeriggio buonanotte buongiorno a tutti penso di aver detto bene l'amice no di lo zoo di football aggiornamento lunedì sicuramente non ci sarà una beata minchiazza facciamo questi classici bonus d'accesso ragazzi volevo informarvi che da qualche giorno ho messo impostazioni che registro e voi possiate vedere in 4k andate una tv di 4k automaticamente partirà se avete l'opzione 4k ce lo vedete in super alta definizione come io la super connessione cazzi e mazzi via dicendo allora allora vediamo che hanno messo qui qui non c'è ancora una beata minchia ragazzi ripeto io mi stufa a farlo questo solo per avere diciamo diecimila punti est la cazzo posso buona rizzo ma ne ho forza dicendo una cazzata io no oggi la faccio diecimila punti esp fa sesso cazzo ragazzi cazzo che mi frega devo fare questa entriamo e come funziona qua io non non ho mai capito la mazza pari san germello ovviamente vediamo vittoria minima 1 quale contro giusto vediamo non faremo con calma ok mi sono dimenticato di fare ragazzi sono comunque io vabbè qui hanno messo questa qua ragazzi se non sbaglio con squadra devi avere i giocatori della squadra giapponese cioè tipo si o entro ovviamente sarà ah no possiamo giocare anche a capocchia però vedete i punti a vittoria cioè tu vuoi mettere anche su leggenda totali punti a vento zero ragazzi per no 0 364 cioè quante migliaia di parti dovrei fare per fare 60 mili perché se faccio così poi vado qua vedete giocatore bonus c'è guardate non c'è nessuno ragà ma veramente con ami ma battere a fan cura vai ma vai alla mare lecione non ho fatto l'altro figurati questo questo ragazzi per le 50 monete so sincero non mi va propria ma non mi va non mi va proprio non mi va proprio non mi va propria punti minimi un po dimmi tre punti minimi cinque a sono a no e anche il golden goal niente quindi andiamo qui saluto tutti i belli brutti ragazzi ragazzi e non saluto nessuno allo sappiamoci tutti questo ok andiamo qui pacchetti vi faccio sempre vedere stanno per sparire queste devo far solo per farlo vedere ok il tempo è questo e spariranno anche questi mercoledì ticket non ha messo più niente li continuiamo a rivedere e andiamo qui hanno messo questo qua del tottenham che a me non me le può fregare di meno ragazzi però ho visto ho notato una cosa su un video di demis di ieri demis dede cripto ho scritto ragazzi non mi ricordo come canale youtube seguito il mio ex socio del mio no del nostro ex gruppo facebook allora no schiacciamo così con la levetta nal tutti le tracce ovviamente questa settimana saranno le tradi io che che in non ce l'ho non me ne frega un cazzo con seschi ce l'avevo promodata a fare in culo l'orissimo vecchio questo zona chi cazzo è quest'altro non lo so ma quest'altro bentan curva la per romero cielo con la gente più forte questo new mink perché dico questo vabbè poi sembra il master united cazzo e mazzi soldi che abbiamo già notato allora ho notato sta cosa se faccio così faccio così poi vado qui no aspetto sbagliato faccio così vediamo se mi ricordo è si è qua vediamo se è così no non è così no uffa no mi ricordiamo qual è ammazza quando le sono non c'è ma sei serio ma sei serio no raga non ci credo vuoi dire che cosa oh my god ecco e non c'è no no un attimo aspettato un attimo e la sua spazio spazio ragà come non c'è arrivo il cuore scusa zonato io ordina reposizione no eh colto generale ok ragazzo sono io ciecato o ce ne sono due cioè per quale cazzo di motivo alla prolifica alla prolifica avevo visto bene allora cioè guardate dove ce ne sono e perché e se facessi così no fammi vedere se è baggata sta cosa no non l'ho capito sta cosa ragà non l'ho capito sta cosa ragazzi qualcuno mi sa dare spiegazioni ma vabbè bella raga le chiaxe le pozzole il vento 5 partite abbiamo fatto 10 punti quando dove sarà meno 15 vediamo la squadra andiamo avanti con questa anche se è questa raga io non ho un attimo io non capisco perché se qua c'ho guardate allora questo questo qua è il 93 è quello che c'ha 90 90 91 se faccio così 90 90 91 allora 90 91 e lo confronto con lui 1 95 96 allora quello 96 è il convolgimento difensivo se faccio così cioè voi guardate un po' ragazzi sto gioco sempre crop e vado su crop e tipo prendo questo posizione e faccio questo questo io a me piace verificare queste minchiate di konami allora questo è 96 ok è questo 95 allora mi ricordavo male io vabbè quindi e che squadra ho preso già andiamo con questo da poi proviamo a cambiare facciamo 5 e 5 vuoi dire un po' di minchiate ragazzi voglio arrivare subito in divisione di due ve lo dico il mio obiettivo è questo arrivare immediatamente in divisione di due giocarmela per la prima volta ad arrivare in divisione 1 se no la raga non ci arrivo mai fuori casa va bene poi devo stare zitto poi mi devo stare zitto poi mi devo stare zitto va bene va bene mi sto zitto babbo va bene babbo babbo minchia messio che fai non lo metti minchia bugiole che fai non lo metti va bene non lo metti va bene che fai non lo metti penso che mi sono andate Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per voi godersela al meglio Beh, ora l'attesa è finita Si alza finalmente e si pare I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico Mamma mia, ma guardate che mazzata di là, ragazzi Maledetta a me, maledetta, maledetta a me che ci gioco Maledetta, maledetta a me, poi ci non vi devo Vi devo stimare a una a una Vi devo stimare a una a una Vi devo stimare a una a una Oh Madonna 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 Quanti cazzo ne ha dietro? Camber Eh, però il mio prossimo obiettivo è lui Quello è un altro animale, raga Oh È fuori gioco Mamma mia No, vabbè Vabbè Mamma mia, raga Non è possibile C'è l'opportunità per il contropiede C'è l'opportunità per il contropiede E questo è un passaggio quantomeno discutibile Si libera con classe Messi la mette in mezzo E salta Carlo Enzo, salta Salta Passaggio splendido Passaggio splendido Conclusione Miracolo di Carugher E gare distro Va bene Va bene Va bene Nico Va bene Va bene Va bene Va bene Io ho tirato là Non so perché non l'ha data Mi partono all'attacco Direttamente dalla tua via Da una parte all'altra del campo Di certo non ci si annoia Va bene 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 Vabbè Va bene 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 madonna oh che mazzata di lag mannaggia la murta madonna mia io vi prenderei a schiaffi i maledetti trovatemi uno che gioca contro di me che viene a dire uno voglio ne voglio uno ho registrato lo voglio sentire vedere e sentire perché come mai nessuno lo viene a dire contro di me sotto come mai come mai cioè che io castemo l'avversario dice no è bugia non larga ma come mai lo viene a dire perché non lo viene a dire tanto la voce si gira se uno castema tizio canio sembrone ecco che cosa ho fatto qua io ma che cazzo ho fatto qua io e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco mendi riceve palla da dietro prova il cross libera al momento giusto la leggerisce dietro non poteva fare molto altro madonna mia madonna mia madonna mia oh oh non fisca guarda non fisca non fisca vabbè commentate voi raga io non so che dire devo stare già 2 a 0 e dai lico sto sezionando ma ti pare e ti pareva anche questo ma che palle ma tu guarda quanto cazzo e culo questo mannaggia la muerto ma che mazzata di là quanto gli vuole iscrive a tutti adesso in privato avete rotti i coglioni mamma mia che lecconissime di merda che avete guardate con la tua coglione chi cazzo gliela va a dare che fascia beh vatti testa di cazzo oh questo è un colpo di testa da manuale la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso niente da fare per il portiere e il risultato si splocca un po' piace come cazzo a chi glielo ho dato ma sta frecchio, ma sta frecchio, ma sta frecchio come ho segno ci passa sta giocando sulla mia connessione, ma si vede ma porca di una puttana maiale, porca troia un'altra che devo segnalare 50 miliardi di volte grazie grazie ma non è a lui, l'ho data a coso là, come si chiama quello? ma guarda che mi ha laggato grazie il coraggio si forza via Messi la butta in mezzo stanno facendo di tutto per vincerla secondo me attaccheranno fino allo scadere va alla ricerca di un compagno davanti prova a verticalizzare sto zitto raga mi sto zitto perché mi sto incazzando adesso ma guarda prendo in cura alla fine non hanno perso tempo per recuperare palla vede lo scatto e cerca la profondità hanno ancora benzina per cercare l'ultimo a fondo o forse il colpo di fortuna decisivo ma sei stupido di dare questi passaggi boh boh oh 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 che schifo raga mi fate schifo mi fate schifo pezzi di merda andate a giocare a un altro gioco andate andate a giocare a un altro gioco neymar era al posto giusto un bel anticipo e l'arbitro dice che può bastare unico vero rincitore l'equilibrio un'artita che finisce in pari ovviamente sentiremo poi in settimana nelle interviste se i due tecnici saranno rimasti solo cazzo ve devo dire raga io vi segnalo tutti non me ne frega vi segnalo tutti tutti la minima irregolarità io vi segnalo vi segnalo vi segnalo tutti siete delle merde siete primo in classifica io 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 che merda che siete che merda che siete che merda che siete no ve lo dirò fino alla morte siete delle merda per me non mi interessa ma non mi interessa assolutamente non mi interessa assolutamente forica dai metti mi forica miracolo miracolo cazzo mamma mia che lentezza signore e signori attenzione il papà è il bambino che è tolto un arcoio nero e blu contatti subito il più vicino dentro dello stato minchia guardate sala raga io vabbè andiamo così dai è quello che vuoi e vabbè giochiamo così minchia guti come sta se lo metto che poi lo metti lo metto e anche a me sta bene ciamani certo che ha quelle caratteristiche di guti io non me le ricordavo proprio un animale e vabbè sarà lì indiviso alle tre e te la devi sudare che stai a dire ma te la devi sudare come te la devi sudare vabbò ma vabbè per ritrovare amici telespettatori un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi il poterselo al meglio beh ora l'attesa è finita si alza finalmente e si pare i 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo va va bene va bene vedete se mi lagherà una volta io che giochi in casa adesso andiamo a vedere se mi lagga la mette sul piano fisico e riconquista la palla oh vabbè da non esagerare ma vabbè passaggio fantastico a spazio per il tiro ma perché allo di nuovo madonna mia cosconi cross gioco non capito lo faccio io uno chi è quello chi è quello e tra si tolta avanti tolta avanti com'è non lagga questa volta che è successo con kick off andiamo con cross dai ho sbagliato io qua è giusto è giusto ho sbagliato io ma c'è c'è il buon nest ho capito come vuole giocare questo non l'ho capito che succede perché quello è solo la cross di nuovo vabbè cross fino a quando vuoi l'ho data battisto la madonna piglia no ne farò la vabbè vogliamo nella bomba miss letteraria dai bomba sono mi sento che mi sento aria di afer un mister aria vale sono mi sento ma bomba sono mi sento ma a la sotter ok ma io ti dico di no picco saltista metterà no peccato e chiudi che giama cacca tu scus no così ma perché non la seleziona o 0 minuti da vai giocato fratello da anche viscono ragazzi anche una volta chiudiamo gli spazi chiudiamo gli spazi bravo così ok sempre pallaportiera e facciamo fare il gol meno ma testa di ma il cerchietto l'avete visto che la palla l'ho data da nino io va tira un bordo tu oltre ma niente raga io mi metto avanti col difensore oh oh madonna non mi fischio il fallo sei scandaloso il gioco sei scandaloso vai cross vai ecco qua mamma mia che cazzo ha preso dai mamma mia di prepotenza vi amano vi vi viene amano basta vabbè no troppo non posso fare una cosa impossibile poi la madonna qualificazione sembra ormai chiuso la tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giusto tutta oltre una bomba da che scorso ma io ho detto lo devo fare no lo devo fare con scorso la gamba mi sono messo in tesco devo fare oh scorso come battistuta ha fatto il fan dai ma sei serio si ma qui te la dai battere fanculo dai ma che squadra di merda a questo ma vabbè togliamo mettiamo lui ecco mettiamo lui missile terra non l'ho capito il passaggio di guti sinceramente non l'ho capito proprio ma come cazzo è che sto in anticipo e la palma finirà lui no ho sbagliato io ah lo vuoi fare tu il missile letteraria guardate colpio Simba e raga bellissima sta cosa bellissima bellissima ma per giocata più luce del caldo del mondo vabbè ragazzi giocato più luce del mondo vabbè certo mi sta andando da culo qua c'è da dirlo questo ci è corso vabbè vabbè e basta un po' lo scemo da no vabbè vabbè da ancora madonna mi guardate i falli che fiscala che dopo il rigore che mi ha dato ieri vabbè tutto montato questa da seconda account che vuole fare di più con giocatori scassi questa verità sì sì ma non barabatto e punizioni da satiris comincia a fare il falso da fischiare avete visto questo voluto dimostra guardate so che se le pensi in cura vuole fare di più vedi vuole fare di più ma se le pensi in cura belle saccoccia si 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 insegna no segna con la velociola questo è un greco forse la nostra gente in divisione 3 attiva una sola cazzo di sconfitto e questo è quello di prima c'era in caso ho fatto una e due ha detto un altro prima a casa e vabbè sette partite due in casa 14 mi serve una vittima cioè su tre partite non ce la faccio registro dopo la caccia grazie a tutti Grazie a tutti.